Enrico, pronti a partire? L'avventura sta per iniziare. Sì, una gran bella giornata. Finalmente dopo tre anni di maltempo troviamo il sole qua a Milano. Speriamo in bene. Abbiamo una squadra molto competitiva e proviamo a fare massimo. La tua gamba, le tue sensazioni per questa Sanremo? Ma ho avuto un po' di sfortuna la Terreno, però le situazioni sono buone. Sicuramente oggi con il bel tempo sarà ancora una battaglia maggiore per prendere le posizioni dove conta. Ma le situazioni sono buone quindi speriamo di fare benissimo. Bisogna studiare qualche numero per far fuori i velocisti per la volatona finale? Ma la selezione viene da sé. Quello che sicuramente bisognerà lottare molto di più è come ho detto prima lottare per le posizioni perché prima dei capi sicuramente sarà una grande battaglia. Oggi col bel tempo molti corridori che magari nelle edizioni passate con il maltempo erano tagliati fuori e saranno presenti quindi la selezione sarà ancora più difficile da fare. Crepi, grazie.